Siamo presi tanti e la posizione è veramente forte. Siete partiti da un 29%, siete arrivati a... Siamo oltre i 60%, non è tanto. Poi anche la fluenza è stata significativa, pensavamo che a un crollo, invece gli internari e secondari alle urne ci hanno dato una grande fiducia. Se si sente vivere i internari adesso, grazie. E poi è una grande responsabilità, speriamo di essere l'autizio. Perché i risultati che abbiamo...